Domani alle 20.45 il Pescara sarà di scena al Romeo Neri di Rimini. Conferenza a stampa della vigilia di Giovanni Bucaro che ha testualmente dichiarato difesa 3 o a 4 deciderò soltanto dopo la rifinitura di questo pomeriggio. Già perché la squadra sta per allenarsi a Montesilvano e dunque sono cambiati i programmi rispetto alle ultime settimane. A nostro avviso si continuerà sulla falsariga dell'ultima partita con la Carrarese dunque difesa 3 magari con tre attaccanti senza il trequartista che è stato Tugnov per 60-61 minuti nel match con i Toscani. Ma bisognerà migliorare soprattutto nella fase di non possesso. Allora andiamo ad ascoltare i passi più significativi della conferenza stampa di Giovanni Bucaro. Buongiorno a tutti. Abbiamo un ultimo allenamento che faremo oggi pomeriggio prima di partire per Rimini. Abbiamo lavorato su tutti e due anche perché dobbiamo avere anche un'alternativa a quello che è il nostro abito che abbiamo indossato almeno fino a domenica, fino all'ultima partita anche se abbiamo cambiato qualcosa. Sicuramente non sarà adattato agli avversari. Questa squadra deve crescere nella fase di non possesso al di là del sistema di gioco perché secondo me il primo gol perché è vero preso a difesa schierata si poteva fare nettamente meglio perché l'altra persona era leggibilissimo c'erano Floriani e Pellacani e in mezzo ha saltato della latta. Nello sviluppo dell'azione della Carrarese che è stata bella, ci mancherebbe, la squadra era larghissima, lunga e larga. Sì, malgrado eravamo tra virgolette con un difensore in più, sì, è stato un errore che abbiamo fatto, io non so se è stato un approccio fatto male, come hai detto tu comunque non eravamo messi bene malgrado avevamo un difensore in più nell'occasione e nel gol segnato dalla Carrarese. Lei, Minister, la squadra è andata meglio negli ultimi 15 minuti del match con la Carrarese quando è tornata a 4, al 4-3? Non penso sia stato quello ma sia stata più una reazione nervosa anche della squadra perché non ci stava a perdere. Sicuramente con quel modulo noi, alcuni calciatori, c'erano già pure lo scorso anno quando siamo subentrati insieme al mister. Abbiamo fatto solo quello almeno fino alla settimana scorsa quindi è normale che ce l'hai più nelle corde. Però penso sia stata più una reazione nervosa della squadra, potevamo giocare in qualsiasi modulo, secondo me è stato quello che poi ha dato la possibilità di racciuffare la partita. Abbiamo per me qualità, avete visto anche l'ultima partita con la Carrarese che è una squadra comunque attrezzata anche per fare il salto di categoria con molti giocatori bravi, anche molto esperti per la categoria. Quindi quando vuole, se si autoconvince dei mezzi che ha, questa squadra può competere con chiunque, almeno quelle che stanno in alto in classifica. Chiaro che difesa a 3 o a 4 cambia il mondo, sai benissimo, cambiano l'uscita e con o senza palla. È una scelta importante quella che dovrai fare, immagino? Sì, sì, no, è una scelta importante. Sicuramente è diverso perché abituati quasi sempre a giocare a 4, passare a 3 può essere diverso dalle uscite, dalla fase difensiva, fase offensiva. Però come ho detto prima, i giocatori ad oggi sono abituati a fare più cose. Una volta si giocava uomo, quindi più o meno le squadre giocavano tutti nella stessa maniera, ma adesso si cambia di continuo. È una squadra che comunque ha un organico buono per il girone, sta facendo bene, è arrivata anche in semifinale di Coppa Italia, poteva anche andare in finale. Quindi ha elementi comunque buoni come ce n'è in tante altre squadre. All'andata il Rimini si presentò con un 4-3-3, diciamo così, atipico, no? Perché c'era Cernigoi che sbariava un po', la Mesta, un giocatore di grande talento, e Morra. Ti aspetti questo assetto o secondo te può cambiare? Perché si parla di un 4-2-3-1 e quindi sarebbe sulla carta anche un po' più offensiva. È una squadra particolare, detto bene all'andata, loro giocarono con la Mesta, Cernigoi e Morra, un po' una sorta di 4-3-3, ma era un 4-3-3 camuffato, perché più o meno Morra e Cernigoi giocavano abbastanza centrali. Si apriva la mezzara, loro fanno molte rotazioni, hanno cambiato vari assetti durante il campionato, quindi ci aspettiamo qualcosa, ma abbiamo provato sui vari assetti che può mantenere o può cambiare il Rimini. A noi dobbiamo guardare sia la classifica, ma dobbiamo guardare principalmente a tornare a essere protagonisti, perché lo siamo stati, non può questa squadra subire e perdere le partite che abbiamo perso negli ultimi periodi. La squadra ha le qualità per vincere le partite.